N'ha guardata che la femmina è stata tutta a botta impressionata Sì, n'ha guardata, sì, sì, un'impressione, sì Va a guanno, ma chi è stata, che ha cogliuto con te Il tuo fatto è nire niente, 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 come a te Che fate, come a te che sto a fare? O piccino è nire niente, o gli amici, lo andò e se è venire E che non bevi, bevi, bevi Se ti vedessi tu madre che ti faccio bere Ma non dobbiamo quello che c'è parte E che c'è sempre grande quello che c'è Se girebbe da sé, se girebbe da sé Che la tua chiamma ci c'è un ruone, che la tua chiamma che poi c'è Il tuo fatto è niente, 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 come a te Oh, bagniamo e via Ma tutto se di media Meno della morte E che la tua chiamma ci c'è parte Per mangiare come quelle lì, poco poco, bisognerebbe guadagnare un milione al mese Magna, magna, ci pensate Piace E di che stanno apposta Fate conto che con gli straordinari Vi è molto bene 12.000 di fisso Ti è, scrivi un po' tu 12.000 di fisso Più Più 2.000 di straordinari Più l'assegni familiari Fanno 800 lira al giorno 800 per 30 Fa un po' il conto Che vuoi da chi vuoi? Meglio da così E uno ci deve rinunciare Io non ce voglio rinunciare Capisci che bisogna ritrovarla Perché se no non se magna Che se può fare? Bisogna una volta potesse tutti i giorni Perché dovremmo da ritrovare quelli là Sì, quelli Quelli non si fanno vedere più là Mica la ritroviamo con le candele da tua madre Mica la ritroviamo con i santi Notizie sportive Oggi domenica, come di consueto Su tutti i campi calcistici d'Italia Le squadre si incontreranno per le partite in calendario L'ansia dei tifosi è rivolta naturalmente al campionato di calcio di Serie A Ecco le partite che verranno disputate oggi A Roma Il Modena incontrerà la Roma allo Stadio Nazionale A Bari Ma io c'ho paura che mi dica Porta in fondo Che vuoi che ti devi dire? E' giusto così? Ma io c'ho paura Spettore Cassino, mi dispiace che capisca Maria, senza paura Deve dir tutto come al confessore e vedrai Magari Magari fossi Santa Madonna mia Quella sì e quella no Semina in altro campo Mi intendi? Capisci cosa voglio dire? No, non capisco Ma come fai a non capirlo ragazzo caro? E' così facile a capirsi A che serve zappare se il terreno è ingrato Zappi E non raccogli Capisci? Veramente non ci capisco niente Quella non te va bene Te la devi scorda Sei brutto Fio mio Sei brutto Ce ne so tante le donne al mondo Tu zappa E semina in altro campo Ti piace? Mamma, sei fredda? Buongiorno 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 che stanno aspettando. Lo credo bene. Scusi signore, ma perché non rispetti i turni? Ho una certa fretta. No, va bene, anche noi abbiamo una certa fretta, se permette. Mi faccia la gentilezza, mi faccia bastare. Mi faccia la gentilezza, noi ti dobbiamo domandare le gentilezze a loro qua dentro. Boni! Che impegni, scusi! State boni! Va bene, ma insomma, non è mica... Guardi, prima c'è questa signora, poi ci sono io, poi c'è il maresciallo. State boni! No, quello che giusto è... Tanto, vi servo a tutti. Quella sì e quella no. Dio mio, dammi la luce! Dammi la luce! Che vuoi? Che? Che t'hanno rubato? La bicicletta. La bicicletta. E che vuoi che ti dica, figlio mio? Io posso dire solamente quello che vedo. Ascolta bene. O la trovi subito, o non la trovi più. Hai capito? O la trovi subito, o non la trovi proprio più. Stai accorto? Subito dove? Io non so più... Che vuoi che ti dica? Non so che dite. Vai e cerca di intendermi. O la trovi subito, o non la trovi più. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Adele, che c'è da dimmi oggi? Mi marito si embriaga sempre. E' una croce. Tu non gli dà i soldi. E' che se posso far? Se riprende. Se riprende. Sì. Grazie. Grazie a tutti. E' chiuso, le signorine sono a pranzo, quando è chiuso è chiuso per tutti, avete capito? E guarda un po', ma guarda, e mamma mia un bambino, e non lo sapete che non si può entrare? Se ti perco vedi, torna, esci di lì, esci che non si può entrare, e dove va? Vorrei sapere dove va adesso Gimbiati lì, andiamo fuori di qua, andiamo, e dove va? Dove va? Ma la legge qua è uguale per tutti, avete capito? Siamo, uno, e che ne so io, eccolo, alle scale, sentiti lì, non si può andare alle camere, non lo sai? Fuori di qua, ma scalzone via! Lasciatemi, in sala da pranzo, fuori, andiamo, e che nessuno va aiuta qua, fuori, andiamo, fuori, su, via di qua, via! Voglio parlare con quello lì, ma chiamare la polizia, e chi te conosce? Volte faccio vedere io se me conosci, andiamo fuori, fuori, chiamatela quest'uno, andiamo, chiamate qualcuno, fuori! Sì, che striglio, ho mal di testa! Voglio parlare con te! Con me? Alfe, lascialo a per me! E piantela! A me e voi? Sì, a te! Eccomi qua! No! Siamo, finitela! Tu prima mi devi dare la bicicletta, andate a per me! E lascialate, Alfe! Te la metti giù, ste mani! E tu giuro, andate! Fuori di qua! E taglio i due schiapponi! Fala voi capito che mi hai rovinato! Alfe, taglio i due schiapponi! Sì, tu mi hai rovinato! Mandalo via! Fuori di qua! Ma hai messo mezza una strada! Ma hai messo mezza! 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 Signorina, ripiratevi voi! Andiamo! Ma guarda un po', che guaglio! Anche intanto che si manda venire a tormentare! Questa che è la prima casa di Roma! Che figura col commissario! Ma guarda un po'! Venite qua! Ma guarda un po'! E non vi vedo più niente, non vi vedo qua dentro! Ma guarda un po'! Farabutti, andiamo! Tu! Tu, tu, a che vuoi? Fermi! Tu mi devi ridare quello che mi hai preso! Ma che ti ho preso? Ma guarda un po'! Ma che... Ma che ti ho preso? Una bicicletta mi hai preso! Ma che bicicletta? Ma quale bicicletta? Niente sono ladro io! No, non te ne vai! Ma ora ti ammolano, non ti fissi il muro! Ma io ti ammazzo! Se non la tiri fuori! Hai voglia, stilla! Io non mi muovo di qua, tu la tiri fuori! Ma guarda un po' che mada succede a me! Un matto che mada assurta! Non mi lascio andare! No, che non te lascio andare! E non te lascio andare! Ma che ti ammolista a te? Lascio andare! Tu mi avevo compromettato! Io da qua non mi muovo, fino a che tu non meritai quello che mi hai preso! Ma che ti ho preso? Sì, io non mi muovo, fino a che tu non meritai la bicicletta! La bicicletta che mi ha fregato ieri a Florita! E chi c'è stava ieri a Florita? C'è stavi tu con questo cappello, c'è stavi! Stavi attestati! Sì, stavamo attestati! Ma se vuoi accusare così la gente? Ma mettete l'occhiare, per favore! E lascio andare! No, che non te lascio andare! Hai capito che non te lascio andare! Ma che posto, gran farabuzzo? Apre via su! Ma mamma, non lascio andare! E tira giù ste mani! Ieri stai ai mercati generali! E tira giù, bravo! State tranquilla, sorelleviche! Stai giù! Ma che sei mazzo! Ma quello è mazzo, ma vero! Dimmi un po'. Ti avrebbe fregato la bicicletta? Sì, ma ha fregato la bicicletta! Prima di baccagliare tanto, sei sicuro di quello che dici? Ma come sei sicuro? E dove te l'avrebbe fregata? Di Cinoflorida! Se sei tanto sicuro, perché non va in questura? Che aspetti? Lo abita qua? E va in questura, smuovete! E andiamo avanti, perde tempo, cammino! E baci, che aspetti? Ancora sta qua? E andiamo, muovete! Va in questura! Io sto qua, c'ho niente da nascondere! No, tu non te ne vai, mica so scemo! Hai capito che non te ne vai? E piantala, non mi toccava, ma chi ti ha mai visto a te? Levate molto davanti! Apre! 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 Guarda, è meglio che te ne vai! Hai fatto un bel capolavoro fatto! Che quando si accusa qualcuno, bisogna essere sicuro! Non si può mica accusare la gente impunemente! Apre! Attenzione a testa! Che non batta la testa! Aregge un bene, reggo! Aregge! Guarda, è meglio che te ne vai! Che quando si accusa qualcuno, bisogna essere sicuro! Perché a parte di essere crocchiato, c'è pure il pericolo della querela per calugna! Andatela via se ne l'ammazzo! Andatela via se ne l'ammazzo! Meglio mio! Anima benedetta di mamma tua! Questa te ne voglio andrà! E battele! E dì la giusta madre! Prema di parlare, sei sicuro di quello che dici? Se sei così pregnore di fatta e frega la bicicletta! Adesso fatta e frega pure il porto a voi e vieni qua a bagagliare! Ma che te buttate a bagno? E i bianchi, vi mettete il censo! Non ce l'hai dato! Non siete tutti i lati! No, vuole smorzare i calori a quello là! E' il palù, palù! Dov'è quella della bicicletta? Ma che fai però? Alla bicicletta! Eccolo lì, sta a fare la commedia! A cuore con me, a cuore con me, a non vedere sto poveraccio sta più dell'acchia di qua! No, sto qua, gliel'ho detto, manco e scusa, c'ho niente da nascondere! Che c'era lì contro il mio figlio? Il mio figlio è censurato! Tutti lo conoscono qua, tutti lo vanno testimoniato! Dice che c'ha il cappello da tedesco? E questo che dè? Neste disco! Andiamo a stare su! Ma se non si può muovere! A bricadier! Ma questo sta più a ospedale che fuori! E allora ci accompagni lei su! Ma per carità! E' casa di brava gente la nostra! Venite! Venite! Io gli darebbe querela per diffamazione! Ma che volete da quel ragazzo che non ha fatto mai male la mosca?